Curare gli uomini autori di violenze sulle donne è l'obiettivo di un centro pilota pubblico a Modena, il servizio di Fulvio Migliaccio. Viene previsto che l'uomo possa avere ancora dei comportamenti prevaricatori e più in generale i comportamenti violenti attuati anche nei confronti dei bambini sono tollerati e visti come parte di un sistema educativo. Comunque la si veda, la base è culturale. L'Italia in Europa è diciottesima per atti violenti contro le donne. Ma ha ricevuto lo stesso un ammonimento dall'ONU che definisce il femminicidio crimine di Stato per gli scarsi interventi operati a giudizio delle Nazioni Unite, nonostante il crescere dei delitti. In Emilia Romagna, lo dice la Regione, quest'anno già 2800 donne hanno chiesto aiuto. A Modena il centro pilota. LDV, Liberiamoci dalla violenza, è il primo centro pubblico a cura della locale Ausl per curare gli uomini autori di violenza. Una persona che ha anche un ruolo dirigenziale si accorse dopo aver messo le mani al collo di sua moglie e di averla strattonata di aver oltrepassato un certo limite. Lui era intervenuto a difesa di sua madre così come aveva fatto da adolescente dato che sua madre era maltrattata dal padre e nel fare questo era scattata una sorta di punizione verso la moglie. Storie come questa vengono ascoltate e curate nel centro LDV di Modena con una tecnica appresa a Oslo. Non a caso i paesi scandinavi con Danimarca, Finlandia e Svezia in testa sono ai primi posti in Europa per violenza sulle donne. La cura per i maschi parte da una presa di coscienza. Evitare negazione, banalizzazione eccetera e lavorare fino ad arrivare a lavorare sulle conseguenze del loro agito e prendersi la responsabilità.